In questa puntata, il punto in aula sulla vicenda Cheo, la regione si costituisce parte civile. FIPILI, ristrutturazione con pedaggio per i mezzi pesanti. Il giorno del ricordo per non dimenticare le foibe. Voglio ricordare che la giunta regionale ha deliberato di partecipare al procedimento penale per esercitare i diritti della parte offesa non appena sarà fissata all'udienza preliminare potremo costituirci parte civile nel processo che vede la regione vittima di comportamenti criminali molto gravi e aggravati dai connotati di stampo mafioso che hanno inferto una ferita dolorosa al nostro territorio. Lo ha detto l'assessore regionale Monia Monni rispondendo a una interrogazione del consigliere regionale del PD Francesco Gazzetti sulle attività di monitoraggio di bonifica sui territori interessati dalla vicenda del Cheo. Le parole dell'assessore Monni che ringrazio perché ha offerto all'aula una ricognizione precisa, puntuale, a nostro modesto avviso vanno in una direzione esattamente opposta. Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti, la volontà della regione toscana di costituirsi parte civile, l'appello tra l'altro, ecco questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale. Sul resto anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessore Monni così come annunciato in aula in consiglio regionale penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione, si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione Cheu con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi come dal nostro punto di vista fa la giunta regionale e sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle toscane e dei toscani. Le bonifiche da parte della regione toscana sono in ritardo, la maggioranza ha bocciato anche di recente una nostra mozione che chiedeva ad ARPAT un indirizzo specifico per compiere le bonifiche su quelle aree interessate dal Cheu e crediamo che da questo punto di vista la relazione dell'assessore all'ambiente non sia stata soddisfacente, tra l'altro risposta a un'interrogazione da parte di un consiglio di maggioranza, insomma se la volevano cantare e suonare però alla fine siamo riusciti a intervenire su questo argomento perché chiaramente anche il fatto che la regione toscana si faccia parte in causa e quindi vittima di quello che è successo anche in sede giudiziaria è un atto assolutamente scontato quindi per noi doveva e deve essere così perché il danno che hanno subito i cittadini toscani su questa infiltrazione mafiosa e questa indagine poi sicuramente non riguarda l'ambito politico però poco si è fatto e quindi c'è ancora molto da fare noi come opposizione cerchiamo di essere sempre costruttivi e stimolanti anche su questo tema. Serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da Arpat perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto ed è importante che la regione toscana abbia accolto l'appello che è stato fatto da CGL e Libera anche nel corso del convegno regionale a cui ho partecipato insieme a molti assessori dove tutti hanno sottolineato il profondo legame tra lavoro ambiente e salute e è stato ribadito questo e di nuovo CGL e Libera hanno fatto un invito alla regione toscana a costituirsi parte civile non soltanto per un dovere morale ma anche per un dovere nei confronti dei cittadini che altrimenti con le loro tasche e la loro fiscalità dovranno pagare le bonifiche. L'assessore Monni ha detto che già 10 milioni sono stati stanziati per le prime bonifiche ma sappiamo bene che sono spiccioli o poco più per quelle che sono le reali necessità. Abbiamo ringraziato comunque l'assessore Monni del quadro che ha fornito oggi in risposta a un'interrogazione e poi agganciandoci alla discussione di una mozione dei 5 Stelle che chiede ancora una volta che il Consiglio regionale sia informato per tempo e con continuità sulla vicenda Cheu. Non siamo soddisfatti dei tempi perché in realtà la Toscana e i Toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il Governo a procedere alla nomina perché quando lo proponemmo noi addirittura a giugno del 2021 la Giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono Fratelli d'Italia con un po' di ritardo e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della Regione Toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche. Oggi ci venga confermato che la Regione si costituisce parte civile e continua il percorso appunto per andare a capire chi sono i soggetti coinvolti anche dal punto di vista amministrativo e far pagare chi veramente è inquinato in quei territori e non far pagare tutti i cittadini toscani è un passo in avanti ma non basta. Noi chiediamo che quell'accordo di programma arrivi in fondo, che si capisca anche per il bene, soprattutto anche per il bene del comparto e di tutta quell'area come abbiamo intenzione di procedere da oggi in poi perché ancora si va avanti a deroghe, a proroghe, ancora non è chiaro l'iter amministrativo procedurale, ancora non sappiamo quale sarà il futuro del Consorzio Aquarno, ancora non sappiamo soprattutto se ci sono altri siti in Toscana che vertono in quelle condizioni perché abbiamo fatto un calcolo e si parla più di 200.000 tonnellate soltanto negli ultimi sei anni, ecco ne sono state trovate poco più di 32.000. L'obiettivo è quello di potenziare la FIPILI con corsie ed emergenze, dove è possibile anche con la terza corsia grazie a un intervento strutturale che comporta ingenti spese non sostenibili con risorse pubbliche di cui godiamo. Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni rispondendo in aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega in merito all'introduzione del pedaggio per i tir sulla FIPILI. Occorrono almeno 15-20 milioni l'anno e per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare, con cinque grandi strutture che siano archi metallici e che possano controllare, verificare e essere rete di un controllo satellitare in cui i sistemi ha la società autostrade. La questione chiaramente riguarda 40 anni di una strada che nella gestione comunque di questa parte politica non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione. Si è parlato della realizzazione di una corsia di emergenza, addirittura si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla e questo sicuramente è un elemento positivo che noi come centro-destra avevamo anche nel nostro programma elettorale. Qualcosa va fatto, però se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, diciamo lasciata in uno stato di abbandono o di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il pedaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi, oltre le tre tonnellate e mezzo, a noi non convince anche perché poi quel pedaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa 15 milioni e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada. Quello che serve non è mettere un balsello di natura economica contro le imprese o contro i tir con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in house può essere un'idea ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto su livello nazionale, in gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale, il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse e di fare questo investimento. La società in house può essere un buon volano di investimento ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti e quindi la competenza passare di livello regionale ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano quanto ovviamente dal governo. Io credo che l'analisi e le considerazioni del presidente Gianni su come porre un rimedio alla situazione della Firenze-Pisa-Livorno che rende impossibile la vita di due terzi dei toscani per quanto riguarda i trasporti siano surreali. Sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio con delle gravi criticità e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate e quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto. Significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio perché questo saranno il significato e se non saranno scaricati sull'utente finale saranno scaricati sulle aziende e comunque sia ci sarà un sistema di rilevamento del pedaggio che ancora non abbiamo capito come sarà che dovrà essere previsto, valutato perché quanto ha detto su sistemi satellitari o altre idee surreali e futuristiche non sta in piedi. Significa quasi non aver mai preso quella arteria e non rendersi conto di cosa sia quella viabilità. Il Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema è un luogo simbolo per la nostra democrazia e un sacrario della sofferenza e del martirio inflitti dalla barbarie nazista ma anche un simbolo di quella resistenza che la gente della Versilia e tutto il popolo italiano seppero trasformare in riscossa civile. Noi dobbiamo tornare ad investire sui treni della memoria perché andare nei luoghi dove la barbaria dello Shoah ha toccato la vita di milioni di persone dà il senso anche di quanto è accaduto e che quello che è accaduto non accada mai più e dobbiamo anche impegnarci a fare in modo che tutte le studentesse e tutti gli studenti delle scuole toscane almeno un giorno durante i cinque anni di istruzione superiore vengano a toccare con mano questo luogo, vengano a emozionarsi, vengano a conoscere quanto è accaduto perché quello che è accaduto non accada mai più. Il Parlamento degli studenti come ogni anno anche oggi è tornato qui a Sant'Anna di Stazzema perché è necessario appunto ricordare quanto è avvenuto proprio come un forte richiamo alla conoscenza storica, alla conoscenza di questi fatti tragici che portarono via la vita a tantissimi ragazzi non solo della nostra età ma anche a tanti bambini eppure una piccola bambina di 20 giorni che è la più piccola vittima di questa strage che quindi noi oggi ci impegneremo a ricordare per comunque dare voce a tutti gli studenti della Toscana che sono vicini a quanto è successo. Sant'Anna come tutti i luoghi oggetto di stragi di civili nel corso della seconda guerra mondiale ci comunicano ancora oggi a quasi 80 anni che cosa quella guerra ha rappresentato il dramma della guerra e il suo manifestarsi contro le popolazioni civili e non solo contro gli eserciti fino a colpire in questo caso addirittura l'intera popolazione e non solo gli adulti maschi. Quando sono arrivati i tedeschi stavo facendo collazione in unaia, erano una trentina di persone, si hanno preso, si hanno messo al muro, cinque sorelle e la mamma che aveva in braccio la piccolina di 20 giorni, la mia mamma e un'altra mamma sono state ammazzate con la pistola, noi sono quella medagliatrice, la mia sorella che aveva 18 anni, Pardini Cesira, si è aperta una porta dietro di noi e si è portata in questo fondo e così ci siamo salvati. Credo che venire in questi luoghi ci dia un senso di quasi malinconia, però allo stesso tempo ne capisci l'importanza del ricordo, anche vedere le persone che vengono qua di fronte ai ragazzi per mantenere qualcosa che tutti forse dovremmo avere in mente, uno di quei ricordi che bisognerebbe tutti sentire, perché è stato non solo un pezzo di storia ma anche vedere come una comunità si sia rialzata, abbia cercato in tutti i modi di trasmettere anche il dolore e la sofferenza, perché questo è un luogo di dolore e sofferenza ma che oggi ci dà una speranza ed è quella che in futuro non si possano ripetere stragi come quella che è successa a Sant'Ana di Sazema. Grazie.